Grazie, devo ringraziare la FIPA. Luigi spero ci sia, no Giuseppe, Giuseppe Orlandini spero ci sia. Quindi anche adesso non posso entrare, Orlandini entra, io no. E dopo? Per me è murato. È murato. È murato. No, dica, dica. No, no, è murato. No, bisogna dire la verità. Anche Zucchetti ti ha detto. No, no. Bezzecchi, Zucchetti. Tutti, tu dico tutti lieti. No, dico, ti ricordi che mi hai detto ragioniamo per la prossima stagione, intanto ci vediamo? Eh, ma poi non ci siamo più visti. Ah, dovevamo sentirci. Un deficiente, che credo si chiami, preferisco non dire, l'ho detto, no, ma lascialo perdere. Ok? Così è andato. Anche il sindaco. Il problema è stato... No, lasciami un attimo. No, no, vengo a filmare il vino, almeno qua, la cantella... Ma roba da Marte. Che scherfezza. Che non posso entrare perché disturbo. Vanno i zagnoli. Vanno i zagnoli. Vedi che faccio video senza chiederti permesso. Una roba scandalosa. Eccolo qua. Tornerò al Roncolo Teatro. Tornerò giovedì, vengo a fare il mio teatrino. Ecco. Giovedì c'è. Sì, c'è un apportamento giovedì. Giuseppe, mi racconti in video adesso la tua storia, no, eh? Posso inquadrarti? Eh... Ouh. Sì.